Deniz Audi ci è... Stranger na telefono! Buongiorno, sono Nicola. Ciao. Buongiorno. Ciao, buongiorno. Il dolce fa niente, io sono... ritardo Ponto Rosso. Ehm... Mi scusi? Ho bisogno di prendere un appuntamento? Gucci Sappucucci. Mi scusi, ma forse ho sbagliato il numero. Subito. Ehm... Insieme? Ok. Insieme, volare. Nel blu di pinto di blu. Mambo Italiano, trst je naš. Mi spiace. Buona giornata. Čakaš, da rečem? A ja, veš kaj se ti hote povedat? Če nas red poslušaš zjutri Deniz Audi ciòu, polajkaj še Facebook, polajkaj še Instagram, polajkaj, ker lahk polajkaš. Stari, sam polajkaj. Aj, bro, polajkaj pa poslušaj. Stisam lajk.